Sul sipario per la 75esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica, che avrà luogo al Teatro Sperimentale dal 17 al 31 ottobre. Sabato scorso, ad un mese dal debutto, sono stati annunciati gli otto finalisti del GAD che prenderanno parte alla Kermesse Pesarese. Ad esse state selezionate sono la compagnia teatrale La Betulla di Nave, con lo spettacolo Il Gioco delle Parti, la compagnia dell'Anello Haps di Forlì con aspiranti assassini, GAD Città di Trento, che porteranno in scena Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, l'Archibugio, compagnia teatrale con il Sirano di Bergerac, la compagnia dell'Eclissi di Salerno con l'Acquario, Don Quixote e Sancio Panza della compagnia teatrale Calandra, l'Accademia dei Riuniti con lo spettacolo Tom, Dick, Harry e dieci piccoli indiani della compagnia teatrale della Lanterna. Quella del GAD è una lunga storia che prosegue ininterrottamente dal 1948, entrando da decenni nella tradizione e nella cultura della città di Pesaro. Il Festival quest'anno riconosce delle compagnie molto importanti, di grande qualità, con degli attori veramente importanti e che sarà il punto di diamante, un fiore all'occhiello di tutto il Festival. Noi cerchiamo di valorizzare il più possibile questa evenienza che è il 75esimo, anche con degli eventi collaterali che l'accompagneranno, che li presenteremo nelle prossime settimane. Oggi però vogliamo essere molto soddisfatti sia della qualità delle proposte che ci sono arrivate, sia delle proposte scelte per la partecipazione al Festival, perché queste compagnie così qualificate porteranno ancora onore al Festival di Pesaro. Grazie a tutti.